ciao oggi è sabato abbiamo acquistato stamattina un bell'arredo in via urbana al centro di roma nel rione monti c'erano molti mobili soprattutto anni sessanta perché era una casa arredata in quegli anni poi c'erano alcune sculture alcuni oggetti alcuni orologi una bellissima veduta di napoli che adesso vi faccio vedere sto mettendo i prezzi che è uno dei lavori che mi piace di più insieme a comprare prima c'è comprare poi mettere i prezzi vendere invece il rapporto pubblico non mi piace tantissimo perché non sono molto bravo però per fortuna sono un bravo collaboratore che si occupa delle vendite quindi mi accompagnate così mettiamo i prezzi insieme e vi faccio vedere queste cose che ho acquistato oggi allora queste ovviamente avendole appena scaricate le vedete per terra perché noi non abbiamo ancora avuto tempo quindi ci sono diversi oggetti c'è un vaso in legno una lampada delle grucce un porta ombrelli una porta piante in ottone un lampadario in marmo delle fornici delle fotografie di luxardo qui dentro ci sono delle dei disegni e poi da qualche parte ci sono delle teste in ceramica fatte dalla proprietaria di casa che è deceduta già da diversi anni che è una bravi era una bravissima artista un artista della quale per la quale faremo un video apposta di me che compro due ci sarò io che compro nella casa in questa bellissima casa del centro di roma e parlo con gli ereti che mi vendono le cose ma farò in questo video una presentazione di questa artista facendo vedere le sue opere perché credo che fosse una bravissima artista sarebbe se non fosse stato per questo video che devo ancora fare sarebbe probabilmente morta sconosciuta perché è come tantissimi artisti non ha mai esposto non si è mai fatta fare delle pubblicazioni e la propria arte se l'è tenuta per se stessa e questo è un peccato perché brava quindi voglio darle una seconda vita glielo darò nel prossimo video che far vedrete fra qualche giorno sono i filmati sono stati molto lunghi ci abbiamo messo molto acquistare questo arredo quindi li dobbiamo montare cerchiamo di montarli al meglio e manderemo il filmato prima alla famiglia per chiedere il permesso di pubblicarlo e poi ve lo farò vedere quindi iscrivetevi al canale se non ve lo perdete bellissimo qui ci sono i disegni di questa diciamo scultrice ma anche pittrice che si chiama maria grazia apolloni quindi questo è l'arredo che noi abbiamo comprato in questa casa questa è una consolina di gusto barocco fatta nel 1930 poi c'era questo orologio questo salotto un salotto intero quindi vi sto parlando di specchiere poltrone sedie fatte nel periodo luigi filippo a roma periodo luigi filippo a roma e napoli si caratterizza e soprattutto per questi rete vai valde lo stile di 15 che sono un pochino rispetto allo stile di 15 classico sono un pochino piuttosto pesanti questi manici sono più larghi la duratura non è quella del 700 luigi 15 è un po più tonta un po più forte hanno un discreto mercato e nella casa abbiamo trovata tutta una serie di mobili degli anni 50 degli anni 60 che è l'epoca in cui questa maria grazia apolloni si è arredata casa quindi questi sono i mobili a poltrone queste guardate che belle queste sono bellissime non mi chiedete nei commenti nei prezzi perché ci vorrà del tempo per prezzarle alcune cose dobbiamo fare delle ricerche cercare di dare delle attribuzioni se avete idea di qualche attribuzione visto che tante volte vi spero che siete più bravi di me datemela e l'accetto volentieri non mi chiedete il prezzo perché il prezzo ancora lo dobbiamo dare li vedrete fra qualche giorno qualche settimana nel nostro negozio ebay antiquariato europeo di Gianluca Scrivano quindi proseguiamo vediamo un altro comprato c'erano questi due comodini art deco in radica di noce questo orologio ancora dei mobili degli anni 60 questo ovviamente fa parte del salotto un'altra lottrona e adesso vi faccio vedere una cosa veramente molto molto carina la camera del letto venite con me questo è il letto è praticamente un giro letto e siamo tra la fine degli anni 50 agli inizi degli anni 60 insieme al letto c'è il comodio piedini in bronzo cassettiera io lo trovo bellissimo estremamente particolare questa è la specchiera del salotto anche qui quindi luigi qui lo stile luigi 15 poi come vedete invece l'epoca è molto molto posticcia diciamo siamo secondo me già nella metà dell'ottocento vieni a inquadrare le fodere così queste sono le fodere degli arredi di metà ottocento ci sono segni della sega a mano c'è sempre qualche tarlo ma non è senz'altro un problema lo specchio come vedete è stato cambiato non è più quello antico gli specchi si rompono adesso ok vi faccio vedere il quadro che il pezzo forte dell'arredo è una bellissima veduta di napoli la data l'anno 1882 lo so perché è datato è una veduta un pochino particolare perché non c'è il vesuvio generalmente le vedute di napoli che troviamo un commercio sono sempre quelle la solita questo è un pochino inusuale questo pittore che dovrete quindi indovinare io ho coperto la firma così vi faccio il solito indovinello si caratterizza per questo modo di dipingere i palazzi sono sicuro che chi di voi è esperto di pittura napoletana riuscirà a indovinare qual è il pittore nome il cognome del pittore è un pittore che si trova in commercio non abbastanza spesso però non si può neanche dire che sia sporadico ha lavorato non solo a napoli si trovano di questo pittore delle vedute bellissime anche di sorrento il quadro è un po sporco lo faremo pulire e poi decideremo il prezzo che ancora non abbiamo deciso quindi studiate guardate con attenzione e nei commenti ditemi chi è sono curioso di vedere se questa volta indovinate niente con questo è tutto stasera siamo un po stanchi perché è stata una lunga giornata abbiamo siamo siamo andati nella casa presto alle 9 di mattina abbiamo comprato abbiamo caricato abbiamo portato qua abbiamo scaricato insomma siamo un po scarichi domani infatti siamo contenti che sia domenica ci riposiamo poi lunedì andiamo a milano a comprare un altro arredo bellissimo e poi il lunedì sera torniamo lo scarichiamo se siete di milano e ci volete vendere qualcosa ricordatevi di inviarci le foto noi lunedì siamo a milano quindi lunedì anche in giornata potremmo teoricamente se c'è qualcosa che ci interessa venire a trovarvi anche per oggi è tutto vi ringrazio di avermi seguito e ricordate che fra qualche giorno ci sarà un video molto bello molto interessante di me che compro in questa abitazione del centro di roma due passi dal colosseo una casa bellissima la vedremo entreremo siamo entrati con la telecamera abbiamo fatto moltissime riprese interessanti quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perdete questo video un ringraziamento un saluto a presto arrivederci e buon weekend